Nome? Giovanni. Rocket. E la domanda dopo? E poi dirò io che è dentro di un'intervista, quanto è cancro, perché ci avviene dentro questo tumore, dove siamo? Esatto, allora, braccia così, mi sento un po' un registro. Eh, io mi sento, io mi sento un po' la cavia. C'è lo spin, c'è lo spin perché... Spinner di... Questo è quando si vede anche così, raga, dai. Devo andare, passala, passala, passala. La voglia, cosa so far dentro? E dice una... Che no. Tanta roba. Questa è la pasta. Questa taglia perché è abbastanza. È abbastanza. Deve, vada. Non puoi, non puoi, non puoi, non puoi, non puoi. Aspetta, rifala, 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 rifala. Poi ci trovo. Millennium. Perché, 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 bo, perché? Non puoi, perché? Non puoi, allora, la social network. Questa ci vorrò di molto, è più di fatto. Non puoi, non puoi, non puoi, non puoi. Per la quarta volta. Fonte di ispirazione. Dai, dai, dai. Quella reale? La reale? Uno youtuber che elimineresti? No, lo saprei, non ce n'è uno in particolare. Di solito quelli che odiamo se ne sono andati. Tipo, vabbè. Ti ho avuto un po' lungo questa risposta, cazzo. Non è questa, è quella dopo. Ho letta, per sbaglio. No, no, no. Col pensiero è quanto, giochi. 3G voglio credere. Abbiamo spacciato la 3G. Raga, si è inclinato il telefono, non so da quanto. No. Adesso, sono tutto. Adesso, adesso. No, forse adesso, dai. Sì, sì, sì. Non ho mai condivido a nessuno, come neanche da... Sì, infatti, quando ho sentito, ho detto... No, non l'ho mica detto. Io sono 6. Minchia, ma è... Ma chi è? Scusa, no, è. Non potrà essere un sacco di terribile, o sì? No, non posso, no. Dai, dai, dai. Oh, zio. No, non posso rispondere a... Non posso rispondere a... Non posso rispondere a... Matrimoni gay. Caponeva. Legalizzate a... Raga, addio. Lui sta venendo in ar schifosi. Che sarà risponente. Contrario. Contrario? Ma c'è quanto c'è... Va bene, la c'è, la tieni. Io anche... C'ho rubinato la riportazione. Ma posso? Sta scazzando, sta scazzando. E che non è molto carico, è tutto ciò. Una battuta, dai. Mia pomanda la c'è. Non so... Non so... Non so... Bostella. Concludiamo tutti insieme? Dai, sì, vieni qua. Non lo so. Quanto è omosessuale sta cosa! E' come niente, non lo dico. E' ridotti, vai. Ah, sedi. E' caduto. E' caduto. E' caduto. E' caduto. E' caduto. E' caduto. Usa bene. Lasciate mi piace, commentate, scrivete e ciao! 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 Cazzo non ci arrivano 300 minuti, non mi piace. Non ci arriva. Posto. Com'è che si stoppa? Non vorrei cancellare il file. Farewell. Cazzo non ci arrivare. realidade. Funconto non ci arrivare.